Musica Salve a tutti ragazzi bentornati sul canale di Gueltaleale Eccoci qui di nuovo con Uncharted Il covo dei ladri Siamo direttamente sul treno Siamo lanciati come se non ci fosse un domani Quindi E noi proviamo ad arrivarci con estrema sportiveggianza Occhio perché qua Facciamo la puttazione Allora Spero che questo capitolo vi stia piacendo E' veramente una figata Effettivamente si il secondo è il capitolo più bello Io quando abbiamo giocato il primo mi dissi che mi era piaciuto molto il primo Però in realtà si effettivamente il secondo è quello più completo Sostanzialmente sotto ogni punto di vista Aspetta questo quanti colpi ce l'avevo? Sei? Vabbè teniamocelo va Sei colpi sono ancora Una buona cosa Aspetta che se riusciamo a farcela In modo stealth Ci risparmiamo Salve Merda Oh Eh vaffanculo Era una buona cosa i 6 colpi Se non li sputtarevamo tutti così Eh vabbè qua Merda Ok Dicevo il secondo Che cazzo fai? Guarda questo Vaffanculo va Salve ragazzi Devo solo controllare i biglietti Sopriamo un po' di munizioni E quindi per quanto Si effettivamente il primo sia stato una bella Scoperta Un titolo eccellente Perché comunque Ehm Occhio L'epoca è un titolo bellissimo sotto ogni punto di vista Secondo però Ehm Migliorò in tutto Gameplay Grafica Perfezionò ancora di più quello che è stato Il primo capitolo Oppela Ehm Questa ce la prendiamo perché quest'altro ormai Ok Stiamo prima Puttana troia Ma che è Tutta sta cattiva Aspetta questo Ah no questo è quello che Abbiamo Ce l'hanno buttato giù Eventualmente possiamo rifarlo Ma che è qui Ma che è qui Stato zitto Vacca puttana Aspetta copriti Non così Sali Eh vacca di quella troia Vabbè ho capito Va Sparo pure a questo Perché se no perdiamo solo tempo Sicuramente Abbiamo tempo da perdere Facciamo così Sì alcune zone La difficoltà aumentava Esponenzialmente Da parte che qui c'è il mitrone Quindi Ehm Eh non mi sa che ci dobbiamo buttare Dentro Allora in realtà possiamo Buttarci fuori Se riusciamo Ok Ehm In modo tale che saliamo sul Sul tettino del treno E ci evitiamo Questo che ci spara col mitra In modo abusivissimo Oh se Ahia Eh vabbè allora facciamo così no Non ce la risparmiamo Ahia Ok guarda quel figlio di buttana Qualcuno passerà subito per le ordinazioni A occhio Ok Attenzione che c'è un altro lì sotto Quindi Andiamo Attenzione Occhio alla capoccia Sbamme Buonanotte ragazzi Aspetta va Vediamo se questo Lo evita Ragazzo Eh Anche lei però Bisogna stare attenti Che è un carro Che diavolo ci fanno Con un carro armato Eh I danni sicuramente Aspetta perché anche di lato ci stanno Quindi Occhio Veloce Dai No Cazzo Dai Merda 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 Eh qua se sbagliamo Se perdiamo Un millesimo di secondo Siamo morti Paffa Riprendiamo un po' di salute Perché qua C'è una bruttissima fine Sì Il treno è Una delle parti Che più costarelle Vabbè adesso La difficoltà è normale Quindi Immaginare La difficoltà più alta Non mi dire Eh sì Anche qui mi ricordo Andiamo a scendere Da quest'affare Merda Qua Eh cazzo Idioti Non vedete l'elicottero Sì ma qua Ufff Vaca puttana Sì questa parte dell'elicottero È bella tostarella Perché ce la fa rifare Tutta da capo Però Naturalmente Andiamo a scendere Da quest'affare Cercherò magari Di non tagliar Non lo so Eh Voi 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 Cerco di non Fermarmi Se riesco Vorrei evitare di Occhio Merda 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 Caputana Merda Dai Dai Aspetta va Famo così va Vedete abbastanza Vai vai Prima che ci fa Salta in aria Occhio Uff Bacca Troia Occhio Vai Luce Occhio Canna Troia Come così Questi cazzi Vai là Vai qua Raffanculo Merda Cazzo Hai preso Va bene uguale Dove bacca Troia Eh qua non la vedo tosta No riprendi Ci abbiamo Il lanciarazzi Un colpo solo ci abbiamo Uscire da qui Quindi di colpi Ok Vai 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 cazzo Merda Andiamo se Danni Ok Dio Grazie per le gallerie Questa ce la prendiamo Ok Capitolo 14 Aia Eh Non andiamo a fare una cosa Vediamo se ce la facciamo così Senza Sfracellarci Non cazzo Riusciamo a prenderlo e buttarlo Ok Non so Vorrei provare a fare medio ster Certo Ma non credo ce la facciamo Amicizia Aia Facciamo A zig zag Merda Merda No No Provarci Occhio Sì anche il destra e sinistra È un po' complicato Perché Eh vedi sta giro Va Bacca troia Fiamo che Sti cazzi Occhio Sali Cazzo Sì vabbè la cosa migliore Qua a questo punto È Sti gran cazzi A tutti quanti Eh no Qua C'è il Pucchetto Cazzo Eh Scusa Spuò Vediamo un po' Se c'è Una finestrella Aperta Da qualche parte Siamo dal soffitto Tieni d'occhio Che non c'è qualcosa Che ci impallini Seguitelo Forza E qua moriamo male Non c'ho neanche Cazzo Sto morendo Così A gratis Sì c'è un picco Di difficoltà In questa Fase Abnorme Perché Rispetto a quelle Precedenti Dove Era bene o male Fattibile Arriva qua Dove Facciamo così Sti cazzi Non siamo un po' Più Protetti Perché non muore Ma Questi sono Dettagli Ma Merda Eh Capai Man Vamos Contri Costi Da Moment Vabbè, questo penso che finiremo i caricatori. Vediamo se facciamo qualche A, vabbè, prendiamo questa. Ok. Vabbè, no, non ce l'abbiamo. Aspettiamo un attimino. Eh. Stanno infrasciati. Occhio. Che non mi vuole. Così, no. Esatto. No, no, vediamo se c'hanno qualche ammolazione qua dentro. Beh, io forse è meglio questa, sti cazzo. Soprattutto c'è gente cattiva. Dai, ala. Non c'è che usciamo. Vado a cucinarci pian piano Aspettate Mi ricordo veramente Sì Ok Sì no Questi erano impossibili Ammazzare così Tagliala ancora Eh ma qua prima che recupero Merda Questo non fa Non sa stare tutto in aria Occhio Con questo Con questo Dov'è No vieni qua Cazzo scappi No così non va Vedetto Aia Ma damo se Non possiamo uscire da sto trapicolo del cazzo Eh ok Adesso lo sappiamo Aspettate che cazzo sta Ma si muove un po' troppo sportiveggiante Eh dobbiamoci Cercare di prendere i razioni Quando ce li spara Cosa Propriamente Inmediata Sto cazzo E vai E vai Sì 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 Aspetta Uno E due Sì Noi ci stanno ancora sparando Non è che sfiducia Questa Cazzo una pistola ce la teniamo mai questo 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 era cazzutissimo no vabbè questo è tipo bossino nella zona che ci spacca il culo brutalmente questo si è molto udile che ci sono un posto di mortale Occhio Bolla E' un momento Adorandogli in faccia così Vai come se non ci fossero mai Roppela Vai di faccia Roppela E che cazzo Vai Vai con cattiveria Cos'è Arriviamo sul cottellaggio Ok Mi hai salvato ancora Tutto bene? Giù dal treno Nate Cosa stai dicendo? Hai idea di ciò che ho passato? Io non ho mai preteso le tue geste eroiche Chloe dai Non c'è tempo per questo Esatto Quindi giù dal treno Finché sei in tempo E ti lascio a quelli Hai fatto la tua scelta Che cosa avrei dovuto fare? Avresti potuto proteggermi Ma ti ho protetto Come potevi farlo con quei due sulle spalle? Auguri con Flynn Che bella coppia Non posso credere A volte bisogna tagliare corto Beh? Il tuo umorismo? Non fai nessuna battuta? No No Non credo proprio Fermo Lascialo andare Fermatelo per sempre Fermi Ok Disastro Qui riprendiamo da quello che è stata la intro Direi a questo punto di fermarci qui ragazzi Ci vediamo allora con il prossimo appuntamento di Uncharted Mi raccomando voi come sempre commentate Fatemi sapere la vostra Seguitemi anche sulla pagina Facebook E sul secondo canale E riprenderemo direttamente da qui Appesi al treno Si Dai Ci vediamo alla prossima Un saluto a tutti da Queltaleale